Siamo arrivati a Saipem, la nostra sensibilità e la creatività paventano il modo per trovare una soluzione veloce e efficace. Abbiamo una capacità lunga per adattare a cambiare circostanze per l'utilizzo di lavoro e collaborazione tra diversi departamenti. Il progetto aiutano i nostri staff e gli subcontractori e egypti a più sviluppare le loro capacità. Il progetto Zoro è una storia di successo. Da l'inizio del progetto Zoro nel 2016, anno dopo anno, il progetto è aumentato da una scelola molto forte, l'escrizione dell'escrizione, l'escrizione materiale, l'escrizione materiale, l'escrizione dell'installazione, ma con una scelola molto forte, ma con una scelola di un'escrizione, ci siano davanti e aiutare, ci siamo riusciti a rendere la struttura con alta qualità e sicurezza. Il progetto alta qualità che abbiamo avuto, è un risultato di un'escrizione di eccellenza, intelligenza, e un esforzo di un'escrizione che rende tutti impressioni. Perché a Zoro vogliamo prendere le persone, e per questo Zoro è una scelola! Un'escrizione! Un'escrizione!